Quanto hai salato un euro? Due meloni un euro? Quanto hai salato un euro? Fate della casa, aiutami tu. Io non so più a chi rivolgermi. Aiutami... Mamma... Ma... Che stai facendo? Con chi parli? Eh... D'Assol. No mamma... Tu ti rivolgi alle presenze rimaste intrappolate qui. All'energia emanata dalle anime che un tempo popolavano questi spazi. Eh... Dai mamma... Invochiamoli insieme. Lo sapevo. Spirito... Io ti invoco. Spirito... Manifestati. Lasci perdere ho detto. Spirito... Eh... Mia madre ha bisogno di comunicare con te. Sfondando le nostre dimensioni. E cercando un contatto. No... Io dovevo sfondarti di mazzato quando eri piccolo. Altro contatto. Spirito... Eh... Dalle... Perché non ti manifesti? Hai fatto le ore piccole ieri sera eh? Sei stato... Ad un ghost party? Un scemo... Vedi che non sei scherzo su passi di ghost. Si capisce? Ma no mamma... Lo spirito... Ha spirito... Sì... Ehi... poi suo zio Minguccio, che mattacchione, mi ha fatto fare un sacco di risa. Sai che pensavo, rapitore? Dovremmo allietare questa splendida giornata con un po' di musica. Sì, ora facciamo un gruppo di musica. Ma no, ha una chitarra per caso. Sì, facciamo su un po'. Ma la Dio, certo che so suonare. Grazie. Adesso vi faccio vedere io come si fa. Oh, c'è anche il plettro. Bene, ora tutti quanti con me. Come se foste tanti commercialisti, migliori di Pagio Franco, chiaramente. Scudete la testa come faccio io. Pronti? One, two, three, four. Del commercialist. Eh, oh, si brava, Snake. Bravi. Bene. Salve, scusami, se io vorrei per caso comprare... Eh? Volessi? No. Se io vorrei comprare un orologio per un... nonno che fa 80 anni, per esempio. Siccome è un regalo che devo fare tutti quanti insieme, capito? Iè, mia mamma, mio padre, mio zì, la zì. E siamo assieme. Budget. No, non ho mai sentito questa marca. La mai famosa o non... Eh? Quanto voglio spendere? Giusto, giusto. Beh, si può vedere qualche cosa. Beh, il giusto, il giusto. Ok, il prezzo è giusto. La trasmissione della Zani. Oh, bello che sa l'ho. Come? Che tipo di orologio? Da polso. No, da orecchio ce l'hai. Che da orecchio si vede la prima. Io non vedo. Vedete, io lo so. C'è una mamma, eh? E' normale, dove? Due polschi, dove? Ah, da taschino. Cipolla? O no? No. No, è meglio qualche caro. No, non è un po'. Oh, così è bello. Posso vedere questo? Oh, bello qui. Gli insiste. Quanto costo? Qua? Sei buono. E voglio non rimanere l'ora dall'alto. Musi ti morti. No, 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 vabbè. Fai un film con il suo picchiato. Fai un nuovo. Ciao, ciao. Un euro. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti Grazie a tutti